No, dico, la gente si sente più sicura a viaggiare in macchina che in aereo, in treno. Ma siamo in gula al mondo e piove, che Dio la manda, porco Giuda! Allora, io ho la patente di Dio al 68 e non mi hanno mai provato il tasso alcolico. Visto queste case? Boh, va che spettacolo! No, grazie. Thank you, thank you. C'è qualcuno che ha studiato delle scorciatoie? In treno ci facevano gli esami del sangue tutti gli anni, ci facevano la prova dei colori, la psicotecnica, la psicopatica. La psicopatica! Allora, il cammino è già pieno di zanzati. Non so dove siamo. Ma ditele da andare qui con il clac qua qua. Ma chi è che fa? Il servizio scoppa? Chi lo fa? No, qua ci vorrebbe uno che studiasse una scorciatoia. Ma qua siamo nella valle della Zanzara. Pronti? Via! Si parte! Siamo bicicloidi noi, e in bici andiamo. Siamo bicicloidi noi, e pedaliamo. Siamo bicicloidi noi, e in bici andiamo. Siamo bicicloidi noi, e in bici andiamo. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti